È stata inaugurata appena pochi giorni fa e subito la loggia dei mercanti entra nell'occhio del ciclone. Il monumento alla resistenza, progettato dall'architetto e partigiana Cini Boeri, composto da sedute in pietra e lastre di vetro stratificato con le frasi di Primo Levi e Vittorio Foa, si è infatti trasformato in una sorta di area picnic. A farne le spese è ovviamente il decoro dell'area sotto le arcate della loggia, cosa che ha sollevato le proteste della sezione milanese dell'Ampi. Con questo progetto noi abbiamo voluto dare un segnale di riqualificazione della loggia dei mercanti, loggia dei mercanti che non soltanto è un angolo straordinario medioevale della nostra città, ma anche un luogo che ricorda la resistenza milanese in tutta la sua complessità, perché lì sono scolpiti i nomi di partigiani, di partigiani, di deportati politici, di ebrei milanesi deportati nei lager nazisti, di militari italiani. Al Comune chiediamo anzitutto il potenziamento dell'illuminazione, perché l'illuminazione è un deterrente straordinario contro il degrado. Chiediamo la pulizia della loggia e chiediamo un presidio fisso della polizia locale o comunque l'installazione di telecamere di videosorveglianza, perché quel luogo così prezioso venga tutelato. Richieste specifiche a cui ha risposto direttamente il primo cittadino, Beppe Sala. Non è semplice, noi lo facciamo presidiare dalle forze dell'ordine come mille altri posti. Io ricordo anche che anni addietro la nostra proposta era di trovare formule per chiuderlo a quel posto e Ampi non era stato d'accordo. Ora bisogna sederci a trovare una soluzione, perché Cenati ha ragione sul fatto che così non è tollerabile. Ha parlato di illuminazione della sera, ha parlato di telecamere. Certo che mettere in pianta stabile delle forze dell'ordine è un messaggio proprio sbagliato. In questo momento noi lo stiamo facendo svegliare, però bisogna trovare delle formule adatte.